il tuo io ti dice, scusate è suonata la sveglia, il tuo io ti dice non è possibile, non voglio morire ma di fatto muori allora che cosa succede? Che tu purtroppo muori, che è l'immaginazione più potente della forza di volontà lo diceva anche un grande personaggio di un tempo passato per cui, ritornando a noi ragazzi, non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto fare azione credere in te stesso e in te stessa e poi soprattutto giudicare sui fatti perché l'ipnosi vera professionale non è né politica né religione, non chiede il tuo credo, non chiede la tua fede chiede soltanto di fare azione e poi il metodo di cesse rispetto a tutti gli altri tipi di metodi non ti ruba tempo, non ti fa scendere l'usciglio, salire montagna o vedere l'ucio o aprire il paragadute, non ti fa mettere gli auricolari, non ti ruba tempo, non ti stressa e funziona anche per il tuo caro, tuo figlio, tua figlia o i tuoi genitori che non vogliono essere aiutati o che non possono essere aiutati e la mia mission non è quella di vendere gli audio a miei P3 DCS che sono di competenza in gestione dell'associazione Ipronici Associati di Los Angeles in tutte le parti del mondo in cui andranno ma di divulgare, diffondere il mio metodo a chi vuole anche imparare per poi aiutare il prossimo perché è sottoscritto che al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale non può fare tutto quindi ho detto ma dopo dieci anni voglio predicare il mio verbo e la mia parola per chi vuole un qualcosa che ricambi veramente la vita e di diverso rispetto a tutto ciò che gira attorno a te non credere a nessuna parola, approfondisci da solo, da sola esiste la rivista scientifica internazionale Life for Lancet su internet che dimostra cosa è l'ipnosi vera e professionale io ti voglio dare soltanto uno spunto un'ispirazione può a te scegliere per magari provoiziare da un audio MP3 DCS che trovi sul sito internet dell'associazione Ipronici Associati di Los Angeles Beverly Hills oppure sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona della tua città, del tuo paese e iniziare, iniziare prima che sia troppo tardi fammi tutte le domande del caso ok? tutte, tutte io ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni persevera se hai scaricato già l'audio MP3 DCS devi perseverare, seguire alla lettera rileggile 5, 6, 10 volte le istruzioni perché tante volte sono controintuitive attenzione e buttavi orologio, calendario, tempo segui le istruzioni molto facili alla prova di un nonno, alla prova di un piccolo alla prova di un idiota visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita la mia fanpage su Facebook ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita e seguimi anche su Instagram e Twitter benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino ti abbraccio ti auguro tanta tanta fortuna alla prossima, ciao and bellissima quindi ciao e Grazie.